Ci piaceva l'idea che passasse, facciamo quello che ci piace, ed è la musica con la quale siamo cresciuti, anche se la differenza poi di età tra i vari, ma anche tra di voi è vista, la musica ti unisce e crea un unico gruppo, cazzuto si può dire stasera, ma questi pezzi sono cazzuto, ma ci sono anche delle persone, ma è un gergo, è una cadenza, tipo un petaloso, no, che questo è, bravo! Petaloso o cazzuto? Ci sono dei pezzi che sono cazzuti! Ah, e ci sono dei pezzi che sono petalosi! Non li facciamo se! amici 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti